Musica Bello raga io sono Masso e ben ritornati sul mio canale Oggi come vedete siamo su Valentino Rossi The Game Un gioco che a me sta piacendo Ce lo do un po' Ehm Oggi siamo a fare una gara di flat track Con il mio personaggio qua Ragazzi una gara di flat track Tanto per aprire un po' questa serie diciamo Ehm Una gara di flat track normale Che flat track è la mia modalità preferita di questo gioco C'è MotoGP C'è Rally C'è Drift E poi c'è Flat Track Ehm Flat Track è la mia modalità preferita Perché è quella dove mi diverto di più Ehm Anche perché mi piacciono le moto Così tipo Anche guidare sullo sterrato Queste cose qui Ehm Vi porterò di sicuro altri video Ehm Se volete altri video comunque anche voi Ehm Scrivetemelo sotto nei commenti Se vi sta piacendo Se vi piacciono Ehm Se vi piacciono i video così Volevo portarvi Sì non ero così tanto bravo Poi Cioè dopo le Ho fatto cagare Ho fatto schifo Ho fatto schifo Raga Non so perché ho fatto sta roba Raga Sinceramente No Perché ho fatto sta cosa È da un po' che non ci gioco Quindi Cioè sarà da Una settimana che non ci gioco A sto gioco Quindi devo Riavituarmi anche un po' Ehm Quindi raga Io Boh se avete qualcosa da consigliarmi Da fare su sto gioco Consigliatela qua sotto nei commenti Che io ve la porto Ehm Anche MotoGP Se Però MotoGP Devo allenarmi molto Perché MotoGP Ehm Non sono così tanto forte come qua Come nelle gare di flat track Quindi Se volete MotoGP Su questo gioco Ehm Anche con Magari anche con Joe Che Anche lui ce l'ha E quindi Anche lui ha questo gioco E a volte Ci divertiamo a fare queste gare In queste gare insieme Se volete Le gare Tipo così Io e lui Più altro Ehm Più altro per divertirci un po' Raga Basta scriverlo qua sotto nei commenti Io Credo di iniziare una nuova serie Su questo gioco Ehm Come posso iniziarla Su Rainbow Che la sto iniziando Ehm Quella delle classificate Che ho per adesso Sto andando avanti A A A Qualificarmi Perché è iniziata la nuova stagione Io Io devo ancora qualificarmi Ehm Quindi Mi mancano 5 partite E ho già fatto due video Uno l'ho già caricato E uno deve uscire domani Che per voi Era ieri Perché questo video Lo caricherò dopo Il giorno dopo Eh Di quello di Rainbow Intanto siamo Primi Siamo al secondo giro Siamo al secondo giro Ne farò due Credo Di gare Perché se no Il video dura troppo poco Ehm Comunque Ragazzi Magari c'è qualcuno Di voi ce l'ha Poi Volete giocare Volete giocare Insieme A me O a Ju Comunque Comunque anche Chi ha altri giochi Tipo Code Call of Duty Rainbow E Quei giochi lì Comunque Che vedete Anche GTA Tanto per fare un po' Di cazzeggio Magari anche In live O fare un video Comunque A me va bene Basta scriverlo O nei social Che trovate qui sotto Nei commenti Magari Su Instagram Che è quello che uso di più Su Instagram Soprattutto Che è quello che Uso di più come social E E quindi Basta scrivermi lì In direct Che vi rispondo Sicuramente E E quindi Scrivetemelo lì E al massimo Facciamo una live Tutti insieme O un video Come volete Basta Basta scriverlo Ragazzi Ovviamente per PS4 Ovviamente per PS4 Ragazzi Che io sono quello Ragazzi Faccio un piccolo spoiler O no? Non ve lo faccio ancora Questo piccolo spoiler E Succederà una cosa In quest'estate In quest'estate Cioè Succederà una cosa Soprattutto Per il mio Canale Comunque per me Succederà una cosa Che riguarda anche Il mio canale Cioè voi E quindi Non vi faccio ancora Questo spoiler Dai Non ve lo faccio ancora Comunque Io Vi porterò Rainbow Valentino Rossi Di game E Un altro E Call of Duty Con l'uscita L'uscita del nuovo code E intanto qua mi ha dato La penalità Non so perché Però rega Io odio le penalità Tanto credo di avere Un secondo Dall'altro Intanto rega Qua abbiamo Concluso Qua abbiamo Concluso Rega Bella In prima posizione E ci vediamo E ci vediamo E ci becchiamo Alla prossima Gara Bella Ok ragazzi Siamo pronti Per la Seconda gara Stavolta Non siamo Sul Circuito Del Del Motorence Però siamo A Misano Ok Sarebbe anche Quello Del Dei drift La mappa Dei drift E E Non è tanto Grande Cioè E' piccola E Comunque E' bella Da giocare Tanto vediamo Qua Massa Attenzione Eccolo E' lui Ovviamente Con la KTM Per carità Non è Non è Lunghissimo Ecco E' davvero Corto Cioè Però ci sono Iconi A volte io Cadevo Per questi Iconi Che c'erano In parte Non so Perché Però Cadevo Attenzione Vi porterò Vi porterò Anche assolutamente La Flat track Americana Che sarebbe Quella che A ogni Ogni volta Che tagliate il traguardo Due volte Tipo Ogni volta che fate Due giri Vengono Vengono eliminate Due persone E si parte Non mi ricordo In quanti Però Credo in 16 Qualcosa del genere Comunque E' davvero Una modalità Ma bella E' davvero Una modalità Molto Bella Ma molto Bella Che io vi porterò Di sicuro Ora finita Sta gara Concludo il video Questa Questa è una gara Bonus Diciamo Detto che è corta Valentino No Non mi superare Aiuto Ecco Vedete 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 Questi coni A volte però Questa volta Non è che Vanno Disturbate Vanno Quasi salvate Diciamo Vanno Valentino Dietro Attaccato Poi Se volete Anche Il rally Però E' un po' Un po' Noioso Non Non è Non mi piace Tanto Il rally Su sto gioco Un po' Noioso Perché Per strada Cioè Per strada Nella pista Bisogna Corrare Non è così Bello Poi Se lo volete Cercherò Di portarvelo Intanto Regà Abbiamo vinto Ecco qua Abbiamo vinto Anche questa gara Se Ragazzi Se volete Un altro Se volete Un altro video Su Questo Gioco Scrivetemelo Qua sotto Nei commenti Che io Ve lo porto Di sicuro Un altro Perché mi piace Mi sta piacendo Anche a me Questo gioco E Iscrivetevi Commentate Condividete E noi ci siamo Al prossimo Video Bella raga